vanda nara secondo angel de brito avrebbe flirtato in modo eccessivo con un concorrente da qui la richiesta della produzione vanda nara fa nuovamente parlare di sé durante la conduzione dell'edizione argentina di masterchef la showgirl si sarebbe distinta per aver flirtato con un concorrente a riportare la voce sarebbe stato angel de brito di lam programma condotto da quest'ultimo non sarebbe la prima volta che vanda nara si trova al centro di un'indiscrezione mediatica angel de brito infatti riporta come la produzione di masterchef argentina abbia chiesto a vanda nara di far diminuire le vibrazioni positive nei confronti di juan francisco moro concorrente del programma condotto dalla showgirl troppo evidenti spiega de brito i flirt nei suoi confronti da qui la richiesta della produzione dopo i già noti gossip con mauro icardi e con elegante vanda nara si sarebbe resa nuovamente protagonista stavolta con un concorrente di masterchef argentina proprio juan francisco moro aveva contestato in alcuni episodi la showgirl rea di dare troppa attenzione ad altri concorrenti trascurando lui ora faremo sul serio so che hai i tuoi preferiti qui avrebbe detto lui a è un'idea terribile avrebbe reagito vanda la carriera televisiva italiana di vanda nara sarà nota ai più tra il 2018 e il 2020 è stata co conduttrice di tiki taka il calcio è il nostro gioco su mediaset assieme a pierluigi pardo nel 2020 è stata opinionista nella quarta edizione del grande fratello vip nel 2022 infine è stata ballerina per una notte a ballando con le stelle programma di mille carlucci in prima serata su rai 1 nell'ultimo periodo invece vanda nara è stata coinvolta in programmi per la televisione argentina tra cui masterchef argentina nel ruolo di conduttrice